vergognatevi, vergognatevi, madonna vergognatevi, siete delle merde, vergognatevi, siete degli schifosi, schifosi, non ci sono altri aggettivi, siete delle merde, puzzolenti, brutti da vedere, punto, non ci sono altri aggettivi, punto, punto e basta, abbiamo fatto giocare a Cagliari 5 minuti, 5 minuti e ci hanno fatto un gol, basta, questo è stato il primo tempo, uno schifo da vedere se avessi dovuto scegliere tra un chilo di prugne e vedermi il primo tempo come effetto per cagare avrei scelto guardarmi il primo tempo di Sampdoria a Cagliari, punto, punto esclamativo, il Cagliari non vinceva a Genova dal 2012, dal 2012 stiamo parlando ragazzi, di 9 anni fa e noi eravamo a tanto così dal perdere 1-0 in casa con il Cagliari, ditemelo come faccio a non essere incazzato per una cosa del genere, poi cos'è successo, cos'è successo, nell'unico momento in cui vado a scolare la pasta per mangiare, perché ditemi se è normale se uno deve guardarsi la partita alle 6 di sera, vado a scolare la pasta sullo 0-1 per il Cagliari, torno, faccio la pasta in cucina, torno e vedo 2-1 per noi, al di là di quello, al 96esimo, l'armido da 3, 3 minuti di recupero, al 96esimo il Cagliari fa 2-2, non mi interessa, non mi interessa, abbiamo fatto talmente schifo che preferisco aver pareggiato che aver vinto, perché vincere una partita così schifosa mi avrebbe dato fastidio, perché? Perché ve lo dico io, perché abbiamo fatto schifo, punto, e qua non c'entra Ragnieri, non c'entra Ragnieri, guardate il dito, non c'entra Ragnieri, perché Ragnieri che ci avrà 70 anni per gamba, se giocasse in campo giocherebbe meglio, punto, punto e basta, chi dice Ragnieri out non capisce un cazzo di calcio, o probabilmente segue la sample soltanto dall'ottava giornata del campionato dell'anno scorso, punto, esclamativo, allora il punto è molto semplice, e ve lo riassumo in una maniera semplicissima, in una maniera semplicissima, eravamo abituati a un gioco con Giampaolo, sono due piedini fondamentali andati via Giampaolo, va bene, prendiamo di Francesco che è un grande allenatore, dopo 7 giornate, 1 vittoria e 6 sconfitte, fa schifo, basta, prendiamo un allenatore che allena da 30-40, allena da ancora prima che nascesse, va bene, prendiamo lui che per lo meno ha una garanzia, punto, va bene, Ragnieri ti dice, Sampdoria io ti salvo, mi vuoi prendere dei giocatori per fare un salto di qualità, no, va bene, io mi limito a salvarti, non me ne frega niente del gioco bello, non me ne frega niente di farti crescere giocatori, Sampdoria io ti salvo, ti va bene, sì, basta, punto, io non esigo più nient'altro, voglio soltanto che Ragnieri mi faccia rimanere serie A e Ragnieri lo fa, cosa posso io dire a Ragnieri? Io ragazzi faccio un magazziniere, perché non vado sulla luna? Perché faccio un magazziniere, punto, se io avessi un'istruzione tale e dei mezzi tali di andare sulla luna, andrei sulla luna, mi piacerebbe tantissimo fare l'astronauta, andare nello spazio con questa bella tuta e viaggiare a vedere la terra dall'altra, invece mi guardo, 11 coglioni, 11 coglioni che non sono capaci, non sono minimamente capaci a vincere contro il Cagliari che ha giocato 5 minuti in tutta la partita, l'arbitro quel grandissimo figlio di una donna che ama le care cose dalle forme falliche, con il di dietro grande come una porta aerei, concede appena 3 minuti di recupero e il Cagliari pareggia al minuto 90 più 6, da che mondo è mondo, 1, 2, 3 viene più 1, prima di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma a quanto pare per insegnarmi troppo no, c'è tempo, c'è tempo, diamo tempo al tempo, finché tempo è tempo, finché ben tempo diamo tempo al tempo, tanto c'è tempo, ma certo! Ragazzi vi chiedo scusa se ho dovuto dividere il video in due parti, ma alla fine del primo video ho detto cose che YouTube mi bloccherà prima di mezzo secondo, quindi purtroppo questo videocompetto non serve da fare, ho dovuto dividere in due parti, detto ciò, allora riassumiamo molto brevemente, io sono furioso, furioso da questa schifosa partita, schifosa, schifosa partita, perché abbiamo pareggiato contro la terz'ultima in classifica, una squadra, il Cagliari che ci ha umiliato negli ultimi anni, ci ha umiliato psicologicamente, punto! Non ci sono scuse, non ci sono alternative, non ci sono se, ma, me, me, mo, no! Ci hanno umiliato anche stasera, punto! Non bastava il 4-3 dell'anno scorso, è bastato il 2-2 di quest'anno, è una vergogna che voi non abbiate avuto la testa di riuscire a mantenere un risultato utile, ma il cagato contro una squadra di merda come il Cagliari, che oggi non ha giocato e noi abbiamo giocato anche peggio! Questo, ripeto, non viene da Ragneri, perché sono convinto che se Ragneri scendesse in campo a giocare, giocherebbe molto meglio della maggior parte dei giocatori che oggi erano titolari, punto! Detto ciò, sapete cosa mi fa rambiare ancora di più? Vedere chi classifica è sopra di noi! Il Verona? No! Perché il Verona gioca benissimo e io sogno bravo di avere un gioco bello alla metà di quello che c'è la Verona! Il Sassuolo? No! Che per quanto mi sia sulle palle, perché io odio il Sassuolo, gioca molto meglio di noi! Chi è sopra di noi? L'Udinese! Eh? L'Udinese! Chi c'è la difesa dell'Udinese? Stegallarsi? Quello che gioca Palavolo? L'altro? Fa cagare! C'è un tracampo? Chi c'è dell'Udinese? De Polo! In attacco chi c'è? Testorowski! L'Udinese? Prendiamo i giocatori singoli dell'Udinese e quelli della Sampdoria li possiamo tranquillamente cagare in testa! E allora perché loro sono davanti? Perché noi facciamo schifo! Perché abbiamo dei giocatori che non hanno nemmeno la voglia di onorare la maglia! Ha detto, ragazzi sapete una cosa? Noi dobbiamo salvarci! Siamo già praticamente salvi! Abbiamo 10-11 punti in più della quarta ultima, della terza ultima, ma che ce ne fregano! Tanti più su di così non possiamo andare perché il Verone è Sassuolo, sono irraggiungibili! Che ce ne frega! Finire a sinistra, finire a destra, che ce ne frega! Mica se ne politici, ma che ce ne frega! Tanto i coglioni, gli stupidi, quelli che ci soffrono, siamo noi! Quelli che spendono i soldi, che guadagnano faticosamente per comprare delle magliette, dei pulsini, dei cappelli, siamo noi! Non sono i giocatori! Allora è tutto dovuto, è tutto regalato! Quelli che fanno la figura degli stupidi su internet, beh compreso, siamo noi! E noi che continuiamo anche dalla ricorda, sperando che ci facciano sentire apprezzati con un senso di appartenenza, ma dove? Ma dove? Ma dove? Da che mondo è mondo? Ma dove? Cioè oggi abbiamo fatto l'ennesima figura da stupidi! L'ennesima figura da stupidi! Il Cagliari ha giocato bene 5-10 minuti, stavamo perdendo, abbiamo... Non lo so neanche che cosa abbiamo fatto! In due minuti! Stavo scolando la pasta! Non ho neanche potuto godere di quell'attimo del gol! Torno a vedere la partita, stavo vincendo 2-1! Mi fa coraggiare di più le palle! Guarda! E finisce 2-2! Ragazzi, io... io odio giocare con 11 uomini dietro, ma un conto è giocare con 11 uomini dietro, un conto è prendere gol a 3 minuti dopo il tempo regolamentare! Cioè su internet si prende tanto per il culo la partita Cagliari-Lazio, ma qua è una cosa che va oltre, qua va oltre la zona Caicedo, qua si entrerà nella zona Nainggolan per un fattore psicologico! Non esiste una logica secondo la quale una squadra dovrebbe prendere gol 3 minuti dopo? La fine del tempo extra, non regolamentare, tempo extra! Ma... No, no! No, non c'è una logica! È come se dico questo cucchiaino mi farà arrivare sulla Luna perché fin da quando sono bambino è che voglio andare sulla Luna! No, non c'è una logica, quindi non può succedere! Ma noi l'abbiamo fatto a succedere! Complimenti, complimenti a tutti quei grandissimi giocatori che guadagnano milioni e milioni di euro all'anno! Non diciamo milioni e milioni perché non tutti guadagnano così! Centinaia di migliaia di euro mentre gente come me va a farsi il culo 8 ore al giorno, 8-9-10 ore al giorno guadagnando 1200-1300 euro al mese facendosi un culo così e spendendo 70 euro per maglietta come questa! Complimenti ragazzi, questa è la via giusta! Umiltà, rispetto per i tifosi, sempre e comunque! Iscrivetevi al canale YouTube! Ciao popolo blucerchiato!